Violenza sulle donne e sui minori, abbandoni in culla, problematiche che si sono acuite nel lungo periodo della pandemia. Per questo è fondamentale il contributo delle associazioni. È il caso di Blue Rose Donna, nata lo scorso mese di marzo a San Martino Siccomario, con degli sportelli dedicati. Nostro simbolo, la rosa blu, che è la rosa della rinascita, del coraggio. Con questa rosa noi vogliamo comunicare, nelle giornate dedicate alle donne e non solo, una serie di attività, una serie di iniziative, che partiranno da uno sportello che sarà aperto nella nostra sede a San Martino Siccomario, in Via Trieste 28, due giorni alla settimana, due giorni alla settimana per due tematiche differenti. Il lunedì e il venerdì, con le aperture e le giornate che troverete sul nostro sito, sarà dedicato al tema delle adozioni. Adozioni in culla, o meglio, abbandoni in culla. Perché i nostri territori hanno, per detta dei nostri ospedali civili, tantissime adozioni che stanno aumentando e che nascono dal fatto che molte donne si trovano a nutrire un figlio per nove mesi e poi a doverlo abbandonare. Ma queste donne a chi sono lasciate, da un punto di vista psicologico, a nessuno. Altrettanto delicato è il problema della violenza sui minori, troppo spesso trascurato. Anche in questo caso si tratta di un tema che ha dovuto fare i conti con le conseguenze del lungo lockdown. La violenza sui minori sta aumentando, sta aumentando in base alle casistiche che ci arrivano continuamente nei nostri centri, sta aumentando soprattutto all'interno delle famiglie. Questo mette in discussione il ruolo genitoriale che dobbiamo avere ma che spesso ci sfugge. E ci sfugge spesso molto probabilmente anche perché la donna, che è il cuore, il centro della vita e delle emozioni di una famiglia, a volte perde il controllo. Ecco che Blu Rose Donna interviene attraverso progetti specifici di accompagnamento per ricostruire l'identità. Ma non solo, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, non appena le situazioni attigue ce lo permetteranno, riprenderemo con le nostre iniziative legate allo sport, alla musica, al teatro. Perché è attraverso il linguaggio universale che capiamo chi siamo, dove vogliamo arrivare e come possiamo crescere i futuri uomini di domani.